Maria Lucia Revisore 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 Qualcuno non ne sa niente di tennis, non me ne frega niente, mai sentito, fantastico, posso dire quasi quello che voglio e nessuno se ne accorgerà. Il titolo del talk, le performance come esperienza religiosa, qualcuno può pensare che ha a che fare con la religione, in realtà no, ha a che fare, questo non è un santone, ho sentito che dal fondo non si vede, non si sente bene, se non sentite, non vedete qualcosa bene, fate così e io vi faccio i sottotitoli. Dicevo, questo qui è David Foster Wallace, uno degli scrittori più importanti contemporanei americani, che ha scritto un articolo finito sul New York Times che poi è diventato un libro, il libro si chiama Il tennis come esperienza religiosa e in realtà l'articolo originario era Federer come esperienza religiosa. Ora, se qualcuno di voi ha vissuto sulla luna negli ultimi vent'anni, il Roger Federer, qui c'è Roger Federer, pare sia il giocatore di tennis più forte di tutti i tempi. Ha all'attivo una roba tipo quasi 90 titoli, ha vinto 90 tornei internazionali, tra questi ha vinto 18 slam, che è una cosa appunto, è leggendario, e l'ultimo di questi slam, di questi titoli molto importanti, l'ha vinto questo gennaio alla tenera età di 36 anni. Una cosa di cui non parla David Foster Wallace nel libro e nell'articolo è di me, che frequento campi molto più di bassa lega, questo è il campo di Martin Sicuro, e facendo due statistiche apposta per il CSS Day, ho giocato più o meno da due anni a questa parte 184 partite, gran parte delle quali perse, nove tornei organizzati su internet di bassissimo livello, con il miglior piazzamento ai quarti di finale, e una volta mi sono anche fatto lo sponsor da solo della coppia sulla corda della racchetta. Voi direte, e sti cazzi? In realtà ho preso spunto dal tennis e tutte queste cagate qui, per fare un paragone con le performance, forzando un pochino, e il paragone è che le performance come il tennis, il tennis puoi giocarlo a Wimbledon se sei Roger Federer, o puoi giocarlo al parcheggio Staveco se sei me, e così le performance le potete applicare a un sito più piccolo o al sito Superfigo, Superstar, Supercorporate. C'è una sfida costante, il tennis è uno sport super agonistico, dove c'è costantemente una sfida con qualcun altro, allo stesso modo le performance sono spesso una sfida tra figure e ruoli paralleli, o comunque connessi in qualche modo, che devono trovare una quadra per arrivare all'obiettivo finale. E, dulcis in fundo, c'è un aspetto non tecnico, sia per il tennis, l'aspetto psicologico è fondamentale, sia per le performance, cioè ci sono degli aspetti, delle dinamiche non tecniche, che però sono alla base di tutto quello che viene dopo. Quindi, poi, perché stiamo parlando delle performance? Ma soprattutto, di quali performance stiamo parlando? Stiamo parlando delle performance relative al front-end. Ora, il tema delle performance front-end è di per sé molto vasto. Fate conto che, ho trovato una metafora molto originale di un iceberg, e immaginate che noi siamo più o meno qui, cioè noi tratteremo una parte del front-end, parleremo di tutto l'iceberg, però punteremo il dito in alcune parti specifiche. E, se guardate meglio nell'iceberg, ci sono Nadal e Djokovic che giocano in un campo, in un iceberg, in Argentina. Detto questo, torniamo a noi, e la prima cosa che dobbiamo dire delle performance è che il, come il, ci sono due personaggi che ci interessa, che citerò spesso, il primo di questi è Steve Souders, che tanto tempo fa fece, disse la golden rule delle performance, cioè che l'80-90% del response time succede nel front-end, il resto nel back-end. Quindi, se ci dobbiamo concentrare su una parte per le performance, probabilmente dobbiamo iniziare dal front-end. Un'altra figura che citeremo spesso e volentieri è la signora, grazie al cazzo, la signora, grazie al cazzo, è un sito veloce, meglio di un sito lento. No, scherzi a parte, succede spesso che, facendo io front-end, succede che il back-endista ti ritrovi, magari, con lo sviluppatore back-end, che dice, ma tanto era uguale, l'ho fatto così. Spesso, sembra una cavolata, ma spesso le performance sono quella cosa che non ti fanno dire tanto è uguale. Quindi, un sito veloce è meglio di un sito lento. Grazie al cazzo. Andando da temi un po' più seri, migliora la SEO. Ho detto SEO, una conferenza di sviluppatori. Questo gennaio è uscito un articolo sul webmaster Google blog, insomma, una roba da SEO, e dice che il Google tiene in considerazione la velocità con cui si carica una pagina web per capire quanto tempo spendere su quel sito per indicizzare contenuti. Quindi Google ha un budget di tempo che ti assegna, dove controlla quello che hai, quello che hai scritto, e più il tuo sito è veloce, più quel tempo è maggiore. E ti indicizzano più pagine. Migliora la user experience. Un'altra guru è Lara Hogan. Dopo metterò online le slide con tutti i riferimenti del caso. Lara Hogan, in un altro libro molto importante, dice che l'utente si aspetta, indipendentemente dalle circostanze, che il sito si carichi in due secondi. Se si superano i tre secondi, addirittura quasi il 40%, o là, il 40% degli utenti abbandoneranno il sito. Ora, una cosa che ho fatto per la conferenza, perciò avete che ho fatto i compiti, ho guardato il libro di Lara Hogan e poi sono andato più a fondo e ho visto da dove prendeva questi dati Lara Hogan. E spesso sono case di consulenza americane che ogni tanto dicono delle banalità, ma ci torneremo più tardi. Questa qui arrivava da Gomez, che è una casa di consulenza americana. Migliora la redditività vera e propria. In particolare, il 28% degli utenti abbandona un sito perché è lento. Abbandona definitivamente un sito perché è lento. Cioè un utente arriva, vede che il tuo sito è lento, e dice, vabbè, sai che è, ciaoone. E questa qui la fonte è Akamai. E un'altra, sempre in un'altra casa di consulenza, usava questa massima, perché molti dicono, vabbè, la prima view è lenta, però dalla seconda in poi è veloce. E la massima che usavano è, you don't get a second chance to make a first impression, che è anche utilizzata da la sempreverde. Grazie, ragazzo. Un altro esempio più, diciamo, reale, Shopzilla, un e-commerce molto grande americano, ha abbattuto il tempo di caricamento delle pagine e ha avuto un increase delle revenue del 7-12%. Piccolo riassuntino fino a qui. Tutto bene? Si sente? In fondo? Ci siete? Grandi. Riassuntino fino a qui. Le performance, come il tennis, per ogni tipologia di sito, per ogni aspetto delle figure, diciamo, coinvolte nello sviluppo, nel progetto, nell'organizzazione del sito, aspetti tecnici e non tecnici, gli utenti ci fanno caso, Google ci fa caso, la redditività ci fa caso, e io una volta mi sono fatto il logo della Copp sulle corde. Andiamo avanti. Le basi. Cerco di andare veloce, perché c'è un macello di roba da fare, non vorrei arrivare lungo, però per il proprio Alessandro che viene dopo di me, le basi con Arthur Ashe. Quanti di voi conoscono Arthur Ashe? Fantastico. Arthur Ashe è quello che vedete sullo sfondo, che è questo, è un giocatore di tennis di colore, che ha vinto Wimbledon nel 75, ed era lo scopo della sua vita. Cioè, primo giocatore di colore a vincere Wimbledon, e l'obiettivo della sua vita era quello, e la cosa che mi piace di Arthur Ashe, è che quando ha vinto Wimbledon, l'ho fatto con un'eleganza mostruosa, cioè ha fatto il punto, è arrivato lì, tac, ok, ho vinto, viva, stringe la mano, e va a casa. L'obiettivo di una vita. Nadal, quando l'ha vinto la seconda volta, si è arrampicato sugli spalti, ha abbracciato il re, ha fatto delle robe allucinanti. Questo qui è Arthur Ashe, ma noi andiamo avanti con le basi, con Steve Souders, che è il nostro guru di riferimento. Con le basi facciamo riferimento a questo libro qui, che è un libro del 2008, prima del response web design, prima di Bootstrap, prima di tutte queste cose qua, ho detto Bootstrap anch'io. Questo libro qui contiene 14 regole, che sono, diciamo, classiche, che do per scontato, che tutti più o meno applichiamo. Scusate, non vi sto dando le spalle. Che tutti più o meno applichiamo. Cioè, fare, limitare il numero di chiamate HTTP, mettere CSS in alto nella pagina, il JavaScript in basso, minificarli, aglifyarli, comprimerli, casharli, eccetera, eccetera. Queste regole qui sono, buona parte di queste ancora sono valide, però diciamo che oggi lo scenario è un pelino più complesso. Di cosa dobbiamo tener conto oggi? Dobbiamo tener conto del responsive web design, che, diciamo, non è famoso per essere veloce, nel senso che, se lo paragoniamo a un sito mobile, m.sito, se lo paragoniamo a un'app nativa, con le dovute eccezioni, il responsive web design spesso è più lento, perché ci sono delle cattive abitudini che si sono solidificate nel tempo e che, insomma, che si possono ottimizzare, adesso veremo come. Il problema dei siti lenti responsive, spesso è un problema di design, perché, ad esempio, c'è un problema di quante font, quante font dobbiamo, possiamo caricare, quante immagini possiamo, dobbiamo caricare, è proprio necessario? Domande che Steve Sauter, all'epoca, non si poneva. Problema delle immagini. L'anno scorso parlai del responsive images, questa non parla Andrea, è un tema tuttora molto caldo, nel senso che questa qui, aggiornata a pochi mesi fa, è la stessa dell'anno scorso, praticamente, in media il 66% del peso di una pagina web è dato dalle immagini. quindi ci tengo a sottolineare l'importanza delle immagini responsive. Andrea, salvaci tu. Dicevo, l'anno scorso io ho fatto il talk sulle immagini responsive e alla fine, qui non si vede, ma ho fatto un piccolo rap molto imbarazzante alla fine del talk. Quest'anno sono un po' raffreddato, scusate per la voce, e ho pensato di recuperare vestendomi come un imbecille. Detto questo, andiamo avanti. che cosa possiamo migliorare con quale materiale abbiamo da ottimizzare rispetto a back in the days, quando nel 2008 con Steve Souders. Dato front end si possono ottimizzare parecchie cose, ad esempio c'è questa pratica di includere questi framework tipo bootstrap, così, buttarli dentro, oppure lato HTML ci sono venute fuori, HTML CSS sono venute fuori le patternline, l'esplosione delle pattern libraries, il javascript si può ottimizzare con tutta una serie di pratiche moderne, eccetera, eccetera, ma il grosso, la grossa novità, il vero game changer è server side, ahimè, che cos'è questa novità? Si tratta del protocollo che tutti utilizziamo per le pagine. HTTP HTTP sta piano piano sta lasciando il posto HTTP 2 e questa qui è la grossa novità. Poi vado nel dettaglio ma sappiate che questa è la grossa cosa che c'è adesso. In sintesi fino adesso, ieri c'erano le 14 regole di Steve Souders, molte delle quali ancora valide, anzi, diamo per scontato che siano delle pratiche condivise da tutti, oggi ci sono molte più variabili da tenere in considerazione. Ora, siccome il tema può diventare incredibilmente pesante e noioso in un attimo, ho pensato di alternare con una serie di video ridicoli di Roger Federer che ha girato per una pubblicità della Mercedes, il primo dei quali è Roger Federer che in uno scenario anni 20 e niente, è così, Roger Federer, timeless legend. E questo è il primo, poi invece ne saranno altri, noto che vi piacciono. Grazie, grazie. Detto questo, andando avanti, quindi che cosa facciamo adesso? Prima di andare proprio sulla polpa, ci sono due cose che dobbiamo tenere in considerazione, due tipi di performance che dobbiamo osservare. Primo, le performance reali, cioè una pagina è grande tot, c'è poco da fare, è grande così l'utente deve scaricarsi sta roba qua. Secondo, le performance percepite. Che cose sono le performance percepite? Le performance percepite sono quanto un utente pensa che sia veloce un sito. Poi vado più nel dettaglio anche in questo, ma diciamo che questo secondo aspetto è più importante del primo, paradossalmente. Per andare più nel dettaglio dobbiamo iniziare a misurare le performance. Tutto ok fino adesso? Ci siete? In fondo, tutto ok? Vi state un po' perdendo, eh, ho visto che... Comunque, misurare. Per misurare c'è ovviamente il primo tool che tutti utilizziamo, tutti conosciamo, page speed, Google page speed. Grazie, ci ricorda che Google page speed tutto lo utilizziamo. Di recente ho scoperto che Chrome ha introdotto un nuovo tab nell'inspector, che è il tab performance, che meriterebbe un talk solo per lui, è complessissimo, pieno di robe, utilissimo, ci sono gli spaccati delle risorse, la cascata, il film strip con tutto il... come viene caricata la pagina, ma quello su cui mi volevo concentrare, quello che... dove vorrei puntare il dito, che vorrei portare a casa, è il web page test, che è questo tool qui, che magari non è proprio bellissimo, che dà un sacco di informazioni precise, ma dà due valori importanti che voglio la vostra attenzione, guardate. Questi valori importanti sono lo start render, e lo speed index. Quanti di voi sanno cosa indica lo speed index? Fantastico, vi dirò qualcosa di utile. Lo speed index è il... viene calcolato così, poi vi dico cos'è. Questo qui è il film strip di come viene caricata una pagina. Questo qui ha il 0%, 87%, 100%. Ora, immaginate, sarò breve, pochi grafici, questo è il tempo di caricamento, qui inizia a caricarsi la pagina, qui è completa. Questa qui è la percentuale di completamento della pagina, quello che vedete sullo schermo, above the fold. Questo qui, 0%, 100%, in fondo è completo. Immaginiamo due siti, quello, quello rosso e quello blu, quello rosso, adesso non si vede, così si vede meglio, quello rosso inizia a caricarsi qui, carica, 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 qui fa lo spicco finale ed è completo. Quello dopo, quello blu, carica subito tipo più del 90% della pagina, aspetta, carica, carica, carica e finisce. Lo speed index è il valore che indica quell'area bianca. Più questa area bianca è piccola, più l'utente è felice, più Google è felice e tutto quello che abbiamo detto prima. Se volete un riferimento, lo speed index dovrebbe essere sotto i 1000 come valore e la prima visualizzazione a schermo sotto il secondo. Non è facile, ma è possibile, bisogna applicarsi. Altri tool per monitorare le performance ce ne sono a Bizzeffe, Speedcurve è un frontend figo molto corporate che costa un sacco di soldi per PageSpeed, Lighthouse ne è un altro di Google che ti fa, tu puoi usare il Node per fare il Google PageSpeed, insomma, tutte queste cose qui, Pingdom ne è un altro, Wiselow è un altro plugin, eccetera, eccetera. Ce ne sono a Bizzeffe, ognuno trova quello che gli fa più comodo o serve meglio al caso. Una volta che abbiamo misurato dobbiamo ottimizzare. Quanto dobbiamo ottimizzare? La vera, cioè se io ho un sito e l'ottimizzo del 5%, non se ne accorge nessuno, nemmeno Google forse. Se l'ottimizzo del 20%, il miglioramento si nota. Quindi, se volete un riferimento, cioè il vostro sito oggi, domani deve essere meglio del 20%, il vostro competitor, meglio del 20%. Microsintesi, c'è ancora un po' di roba, resistete, ci siamo. Microsintesi, performance reali, performance percepite, misurare le performance, occhio allo spin index, ottimizzare le performance del 20%. Altro piccolo video, questo è un altro caricato, Federer negli anni 80, ha fatto queste simpatiche animazioni in Cine. e andiamo avanti. Ok, quindi che facciamo? Arriviamo alla polpa. Sul responsive web design, gli approcci da tenere per sviluppare il responsive web design sono i classici e sono ancora validi per un approccio diciamo orientato alle performance. Mobile first, davvero mobile first, non schermo piccolo, cioè createvi uno scenario dove le risorse sono limitate e dovete caricare in fretta una pagina. Progressive enhancement, santo Jeremy Kit, questo qui date prima una versione di esperienza accettabile, veloce, minima per tutti e poi da lì chi può ottimizza. Le immagini. Ci sono nuovi come dicevo, ragazzi, le immagini responsive sono molto importanti, Andrea Verlick ha una grandissima responsabilità oggi. Sulle immagini responsive, cioè non solo le immagini responsive, ma potete fare l'esiload delle immagini se un utente supporta javascript, caricate le immagini con il l'esiload se necessario. I gif, le gif, ragazzi, le gif piacciono a tutti, i gattini, ok, tutto quello che volete, le gif sono come se sei il numero uno del mondo e perdi contro il numero 26, query, chi conosce query? Nessuno. Chi conosce Djokovic? Tutti. Oppure, peggio, se fai tutto lo spanizzo per tutto l'ultimo terneo e poi perdi contro un uzbeco numero 117 nella classifica mondiale. Le gif hanno questo ruolo nel web, cioè uno fa tutto i miracoli per far caricare la pagina velocemente e poi arrivano al gif da 5 mega. Se proprio dovete usare le gif, le gif ci sono delle librerie che vi permettono di ottimizzarle come gif lossi, ce ne sono altre, ve ne do una. Altra cosa che potete utilizzare per l'ottimizzazione delle immagini, se volete farlo in casa riga di comando vi andare, mods.jpg, image.magic sono dei punti di riferimento, ci sono dei servizi a pagamento esterni, di solito è un server che tiene le immagini, gli arriva la chiamata e vi dà l'immagine giusta, questi ne sono alcuni, ce ne sono diversi, questi sono quelli che ho usato o ho sentito dire. Lato frontend, ragazzi, lato frontend lo sappiamo già, utilizzare bootstrap se serve, utilizzare una parte eccetera eccetera, tutte le best practice che abbiamo detto prima ma in particolare vi sottolineo quelle relative al CSS. Il critical CSS ovvero la parte di CSS relativa all'above the fold la mettete in line, cioè nel led della pagina di testo che si carica insieme al resto della pagina e caricate il resto del CSS asincrono via javascript. Che succede? Che il browser sa già come renderizzare la prima pagina, la prima parte della pagina e poi in un secondo momento carica il resto. In questo modo lo speed index diminuisce. La specificity come ha detto prima il buon Mattia è inutile che sia utilizzate per i processori o no è inutile che fate quei selettori così lunghi utilizzate delle naming convention o simili e limitate la specificity più che potete. CSS containment questa è una pratica relativamente nuova c'è una riga di CSS che dice questa roba qua caricamela subito il resto caricalo dopo oppure questa roba qui ha precedenza rispetto al resto. CSS tricks tutta la vita. Lato back end come vi dicevo c'è l'HTTP2 HTTP2 roba tosta sta il cambiamento più grande che abbiamo sotto il culo e quello che succede è che è già supportato da tutti il grosso la grossa novità che porta HTTP2 rispetto all'uno è il multiplex mentre prima in HTTP c'era la coda delle richieste quindi io facevo il minor numero di richieste perché c'era sta fila che piano piano arrivavano tutti arrivavano tutte le risorse con il HTTP2 c'è un multiplex quindi io posso fare più richieste contemporaneamente che succede quindi che tutte delle pratiche che aveva detto il buon Steve Sauer vanno a farsi benedire CSS e sprite non servono più vabbè se qualcuno li usa peggio per voi immagini in line nel CSS non esiste più cioè non serve più o meglio non serve più così come serviva prima concatenare CSS e JavaScript non serve più non serve più dividere gli host da cui arrivano le risorse ma col fatto che ci possono essere più risorse in contemporanea ha senso dividere gli asset e quindi man mano che ti servono dei blocchi tu chiedi le risorse per quello specifico blocco per dividere i CSS a sezione cioè io nella sezione sport ho degli asset nella sezione oroscopo ne ho altri adesso ha senso adesso o domani avrà senso dividere le risorse in questo modo qua e attenzione ai domini multipli che cosa vuol dire? vuol dire che per arrivare a HTTP2 per poter utilizzare HTTP2 stiamo parlando di server side c'è bisogna passare prima per HTTPs quindi connessione sicura per utilizzare connessione sicura c'è bisogno che il server abbia un certificato questo certificato può scadere se hai più server devi assicurarti che questi certificati siano allineati beghe tecniche del back end però vanno tenute in considerazione ma fanno parte del grosso game changer non c'è più bisogno fondamentalmente di avere diverse source o meno non come prima riassunto fino a qui mobile first responsive e progressive enhancement ancora ottime pratiche immagini ottimizzate come se non ci fosse un domani codice pulito mi raccomando i CSS mi raccomando bootstrap e HTTP2 è il grosso è l'elefante nella stanza detto questo vi beccate un altro video di Roger Federer che fa finta di essere degli anni 80 sempre ruggenti anni 80 Roger Federer fucking amazing finito ci siamo quasi ragazzi è fatta è fatta mancano 25 minuti ci siamo sono anche in tempo rimane un aspetto solo quello non tecnico questo non è una pubblicità è uno dei pochi momenti in cui Roger Federer spacca la racchetta si incazza sbaglia c'è quella ci sono tutti gli aspetti non tecnici che vanno a condizionare tutte le scelte che si fanno dopo o durante e vabbè lasciamo così e cambio cappello cambio dipartimento se il sito che sta facendo è un sito piccolo e io devo parlare con il me grafico che sta facendo la grafica e poi il me front end che dice al me grafico guarda che mi hai messo troppe immagini grandi e io mi rispondo d'accordo mettere un po' più piccole grande è un piacere lavorare con te tutte queste cose qui ok ci sono degli scenari dove non è proprio così nel senso ci sono degli scenari dove è un'altra persona quella con cui lavori oppure ci sono degli scenari dove la persona con cui lavori è un altro piano di un altro edificio e di un altro dipartimento quindi questo qui non è banale e poi ci sono le più sbariate figure il grafico il produttore il risultato della UX project manager l'editor social bla 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 non c'è una soluzione qual è la soluzione? be kind la soluzione è che bisogna parlare con tutte queste persone non bisogna parlarci come una figura da sviluppo ma bisogna parlarci come responsabile delle performance bisogna trovare una persona che sia la responsabile delle performance e di volta in volta questa persona dovrà trovare un equilibrio o una soluzione con la persona di turno due esempi veloci il grafico mi ha messo 8 font il sito è lento la soluzione per questo tipo una soluzione veloce per questo tipo di dinamiche è il performance budget cioè ci diamo diciamo che la pagina prodotto il template pagina prodotto il template on page deve pesare massimo un mega 800k quello che è e in questo budget sappiamo che una parte sono gli html una parte di css una parte di immagini il 66% e pubblicità eccetera eccetera se non stiamo dentro dobbiamo capire chi può sacrificarsi 9 volte su 10 sono o le pubblicità o le immagini però questo qui è una regola a cui tutti devono attenersi e questo tool qui è molto carino l'ha fatto il santo Brad Frost che è lo stesso che ha fatto Patterlab se qualcuno non lo conoscesse dopo mettere link eccetera eccetera e un altro caso che viene spesso citato è io faccio il sito lo do al cliente il cliente ci mette dentro le gif ci mette dentro le immagini qualcuno in questo scenario fantastico in questo caso che cosa si può fare la soluzione è una sorta di piano editoriale o regole di editing quindi tu gli dici guarda il sito è così se metti più immagini sappi che questa roba fa cagare e invece se ne metti una questa roba è figa ovviamente bisogna trovare un equilibrio non è sempre possibile quello che bisogna fare è coinvolgere tutte le persone presenti perché tutte le persone che utilizzeranno o che lavoreranno sul sito avere degli obiettivi condivisi spiegare perché stiamo facendo delle cose e ahimè prepararsi a perdere perché non sempre il performance master ce l'avrà vinta un po' come Roger Federer nel 2009 ha perso alla finale degli Australian Open con Nadal e piangeva come un bambino non riusciva a parlare per chiudere che tu debba giocare la partita più bella della storia del tennis e perderla o che tu debba battere il cardiologo del Sant'Orsola che tutt'ora non riesce a farlo scendi in campo e fai il tuo gioco qualcosa di buono arriverà comunque grazie a tutti grazie a tutti